Ciao ragazzi e bentornati anche quest'oggi qui sul mio canale Oggi parleremo ancora di cartongesso e nel particolare come avevo detto nel video dell'ultima volta vi voglio spiegare nel dettaglio come mi organizzo per poter strutturare tutta l'orditura metallica per quanto riguarda i controsoffitti, nel particolare i controsoffitti a doppia struttura sovrapposta incrociata Ne parliamo immediatamente tutto quanto dopo la sigla Perfetto, allora come abbiamo parlato già nei precedenti video e soprattutto anche quello dell'ultima volta per poter organizzare la struttura che andrà a reggere tutto quanto il nostro cartongesso dobbiamo tenere presente prima di fare tutto quanto alcune cose fondamentali quindi è molto importante che noi andiamo a fare un sopralluogo della nostra stanza in questione e soprattutto teniamo presenti alcuni fattori fondamentali Prima di poi organizzare tutto quanto Quali sono? Travi, eventuali cassonetti delle tapparelle, pilastri, cassetti di raccordo, il puntiluce Perché questo? Perché possono incidere sulla posa della nostra struttura, in che modo? Nel video dell'ultima volta per esempio c'è stato e poi fra poco ve lo faccio vedere meglio sul computer c'è stata la necessità di dover in sostanza mettere il nostro controsoffitto fra il cassonetto della tapparella e il solaio Se avessimo potuto avrei preferito scendere un pochino più giù perché siccome c'era dall'altro lato della stanza una trave avrei preferito in sostanza chiudere tutto quanto e non far vedere gli spigoli della trave e quant'altro e nascondere e mascherare tutto quanto Quindi ecco questo è uno dei fattori che potrebbe incidere sull'intercapedine quindi la profondità del nostro controsoffitto Altra cosa fondamentale è che se per caso dovete realizzare delle strutture canalizzate per l'aria condizionata tenete presente che mediamente una macchina, a seconda poi di quanto è profonda abbiamo bisogno a meno di una trentina di centimetri, di 35 addirittura a volte per quanto riguarda l'intercapedine per poter posizionare la macchina all'interno del controsoffitto e soprattutto anche per creare tubazioni, dipende poi dalle tubazioni che andate a installare e soprattutto che portate di aria avete necessità per la vostra stanza perché si possono usare i tubi da 150 o i tubi da 200 per esempio dipende insomma da quella stanza quanta aria ha bisogno questi sono anche altri fattori fondamentali a quali dovete tenere presente una volta fatto questo, avete fatto il vostro sopralluogo della stanza avete stabilito quello che dovete andare a realizzare e come dovete realizzarlo come vi ho detto nel video precedente andate su carta e cominciate a fare degli schizzi in modo tale da poter tenere presente altri fattori fondamentali quali? una fra queste per esempio è la posa della nostra lastra uno degli aspetti fondamentali è capire come la nostra lastra possiamo metterla attaccata alla nostra struttura per evitare che venga sprecata per sprecata io intendo nel senso che ci siano dei tagli non corretti della nostra lastra e comunque avere dei punti in cui abbiamo dei pezzi troppo piccoli che potrebbero comunque crearci dei problemi quindi adesso ci spostiamo al computer e vi spiego meglio cosa dovete fare come secondo passaggio vi faccio vedere quel discorso che vi stavo facendo poc'anzi per quanto riguarda la posa delle lastre cosa importante è capire in che posizione andarle a mettere in modo tale da evitare sprechi inutili adesso vi abilito qua perfetto ovviamente le lastre le possiamo mettere in due modi io nel particolare sto usando le lastre lunghe 2 metri, larghe 1 metro e 20 una posizione di posa potrebbe essere questa l'altra posizione di posa potrebbe essere quest'altra guardate già così a primo acchitto le differenze questa soluzione comporterebbe più stuccature non solo guardate qui in questo punto notate che ci sta praticamente una lastra tagliata per un solo pezzettino perché dico una lastra? perché considerate che il discorso è stato fatto in questo modo lastra intera misura la differenza quindi l'avanzo di questa lastra è stata posata qua e così via in sostanza qui ci ritroviamo una lastra sprecata completamente per fare un piccolo pezzettino non solo è scomodissimo avere un pezzo così piccolo dover poi andare a stuccare perché potrebbe crearci veramente problemi dal punto di vista delle crepe ovviamente nulla vieta che noi questa aggiuntura anziché farla in questo punto la potremmo fare in quest'altro per evitare questa problematica fin lì ci siamo però tenete presente che comunque sprechiamo una lastra per soli 6-7 cm 10 cm e non vale la pena quindi questa soluzione è sicuramente la migliore una volta fatto questo da qui possiamo partire a fare il discorso della struttura metallica che ci consentirà poi di capire bene anche la pendinatura come farla una volta scelta la posizione in cui dovrà andare la nostra lastra adesso passiamo in sostanza alla serie di montanti sulle quali andranno ancorate le nostre lastre per poter far questo dovete tenere presente un altro fattore fondamentale almeno io mi comporto in questa maniera dobbiamo vedere se la nostra stanza ha dei lati in cui hanno una dimensione maggiore di 4 metri perché questo? perché come vi ricordo e come vi ho detto sempre i nostri montanti e le nostre guide hanno comunque una lunghezza massima di 4 metri quindi se la nostra stanza che dobbiamo andare a controsoffittare ha un lato più lungo di 4 metri vuol dire che dovremmo realizzare dei giunti quindi questi giunti io preferisco sempre farli sulla prima serie di montanti perché vi ricordo che oggi stiamo parlando come la volta scorsa di una struttura doppia sovrapposta incrociata quindi di conseguenza io preferisco sempre fare le giunte sulla prima serie di montanti mai sulla seconda ovviamente dove è possibile perché ovviamente se la nostra stanza ha delle dimensioni per ogni lato superiore a 4 metri i giunti devono andare comunque sia da un lato che dall'altro quindi di conseguenza in questo caso se abbiamo un lato solo che è più lungo di 4 metri cerchiamo dove è possibile andare a mettere dei giunti sulla prima serie di montanti una volta fatto questo e capito questa cosa fondamentale passiamo a capire la seconda serie di montanti come andarla a installare ora adesso vi porto sul computer e vi spiego meglio perché anche qui ci sono delle cose da tenere presenti anche perché vi voglio ricordare che io nei video precedenti vi ho sempre detto che la struttura metallica sulla quale poi andranno ancorate le nostre lastre io l'ho sempre utilizzata a 60 cm di interassere uno dall'altro tenendo però presente che in questo caso aumento la pendinatura per scaricare di più il peso però sappiate che si possono anche fare altre due tipologie di posa della nostra struttura metallica che sono le più utilizzate quella a 40 cm sempre in maniera longitudinale la nostra lastra però per quanto mi riguarda lo vedo uno specchio eccessivo di materiale oppure trasversalmente la nostra lastra ogni 50 cm comunque adesso spostiamoci al computer e vi spiego meglio ora dopo aver scelto la posizione in cui andranno le nostre lastre passiamo per quanto riguarda la posa della seconda serie di montanti perché dico seconda serie perché questa sarà la serie di montanti sulla quale andranno ancorate poi le nostre lastre quindi abbiamo deciso come detto in precedenza che le metteremo in questo verso ora come vi ho detto prima i nostri montanti possiamo metterli in vari modi uno di questi quello che ho sempre utilizzato io è questo qui cioè mettere praticamente un montante ogni 60 cm però cosa succede? succede che in sostanza abbiamo da dover fare il giunto cosa che io sconsiglio sempre di fare perché? perché visto che in questa stanza abbiamo un lato che è inferiore ai 4 metri rispetto a quest'altro quindi evitiamo dove è possibile andare a mettere come vi dicevo il giunto su questa serie di montanti stessa cosa se scegliesse di fare l'altra soluzione sempre in posa longitudinale delle lastre ogni 40 cm vedete sarebbe ancora più fitta e soprattutto tanti più giunti da dover affrontare in questo caso la soluzione migliore è quella di mettere i montanti ogni 50 cm in maniera trasversale sono comunque in numerico abbastanza contenuto non dovremmo sprecare materiale inutilmente e soprattutto abbiamo un montante unico senza alcun tipo di giunto che andrà da guida a guida vi metto anche le guide perfetto in questo modo benissimo una volta che abbiamo optato per quale soluzione dover utilizzare nella posa dei montanti sul quale poi andranno installate le nostre lastre si passa a considerare la prima serie di montanti bene una volta che abbiamo scelto la posizione in cui dovrà andare la nostra lastra abbiamo verificato in che posizione mettere i nostri montanti sulle quali andranno installate le nostre lastre si fa uno step indietro e si va a vedere in sostanza la pendinatura come vi ho sempre detto nei video precedenti la pendinatura è legata anche al peso delle lastre che noi andiamo a installare perché vi ho detto come vi ho sempre detto in commercio ci sono varie tipologie di misure di lastre le abbiamo da 2 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri in lunghezza, larghezza 1,20 m e anche varie tipologie di spessore che quindi comportano anche pesi differenti solitamente quando si utilizzano o si realizzano delle strutture in cartongesso in particolare i controsoffitti si usano lastre solitamente quelle standard che sono quelle di colore bianco o eventualmente quelle di colore verde se si usano negli ambienti umidi quindi come bagni, eventualmente cucinotti se dopo sono poco erati o lavanderie per esempio quelli sono magari dei punti in cui dove si tende a usare quel tipo di lastra, quella verde come vi dicevo gli spessori sono da 10 o da 12 mm quelle sono quelle che normalmente vengono utilizzate per quanto riguarda quelle da 6 perché ci sono anche quelle da 6 quelle vengono principalmente utilizzate per andare a fare delle controsoffittature di design dove ci sono magari delle situazioni o comunque delle curvature della lastra stessa che è più facile farlo con quelle da 6 rispetto a quelle da 10 e da 12 che diventa quasi impossibile detto questo vi dicevo le aziende pubblicano ci sono alcune aziende in particolare che in base alla lastra che loro vendono c'è una scheda tecnica scheda tecnica che vi dice il peso della lastra stessa e soprattutto l'interesse in cui dovete mettere i vostri pendini considerate che quelle da 10 mm di spessore o da 12 con misura 2 metri per 1,20 variano da un peso tra i 7 e i 12-13 kg anche 15 a volte quello è il range e in particolare per quanto riguarda questa tipologia di lastra solitamente viene consigliato di mettere una pendinatura intorno al 1,05 m l'uno dall'altro tenete anche presente che questa pendinatura è anche influita dal fatto della tipologia di struttura che andate a montare perché è di pendino perché se mettete il pendino col gancio a molla vi danno una tipologia di interasse se mettete magari il pendino che vi ho fatto vedere o cavaliere come volete chiamarlo nel primo video che ho realizzato quello del bagno con avete visto gli sbalzi che ho realizzato lì c'è un'altra tipologia di interasse come vi ho sempre detto quando organizzo io queste tipologie di strutture indipendentemente dalla scheda tecnica che viene consigliata dall'azienda per quanto riguarda l'interesse della pendinatura io non la sto mai a prendere in considerazione quindi per come mi organizzo io vado sempre a cercare di mettere un pendino con una distanza inferiore al metro meglio ancora se riusciamo a scendere sotto gli 80 cm poi in base alla tipologia di lastra e al peso della lastra stessa che andiamo a utilizzare cerchiamo di infittirla come vi ho sempre detto nei video precedenti anche e soprattutto uno di quelli che ho organizzato la struttura ogni 60 cm per esempio io in quel caso tendo ad infittire ancora di più la pendinatura proprio per compensare quel fattore che ci sta un montante in meno da un lato e quindi mi organizzo in questo senso comunque adesso spostiamoci al computer vi faccio vedere meglio come organizzare la pendinatura e cos'altro tenere in considerazione allora passiamo alla pendinatura come vi ho detto in precedenza è strettamente legata alla posa dei nostri montanti sui quali poi andranno installate le nostre lastre quindi abbiamo scelto la posa in questo verso di conseguenza la prima serie di montanti si dovrà venire incrociata a questa perché vi ricordo che è una struttura doppia incrociata sovrapposta quindi la prima serie di montanti verrà messa in questo modo ed è strettamente legata alla posa dei pendini perché? perché in sostanza questa serie di montanti è inganciata ai pendini ora cosa dicono le aziende per quanto riguarda la posa della pendinatura le aziende dicono vi tolgo i montanti tutto quanto le aziende dicono per quanto riguarda l'asse di cartongesso che vanno da un peso fino ai 15 kg circa ogni pendino se dovete utilizzare i pendini con il gancio a molla va messo ogni metro e 0,5 circa quindi io cosa dovrei fare? dovrei prendere visto che andremo e si svilupperanno i pendini su questo lato dovrei andare ogni metro e 0,5 così un metro e 0,5 e un metro e 0,5 benissimo stessa cosa dovrei fare da quest'altro lato però dovete considerare che visto che i pendini nostri si svilupperanno sul lato lungo della nostra stanza sul lato corto invece dobbiamo partire a meno 50 cm quindi così 50 cm di qua e mettiamo un'altra serie di pendini a 50 cm dall'altro muro benissimo poi riprendiamo il discorso del metro e 0,5 così 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 benissimo tutti questi punti di incrocio che vedete sono i punti in cui dovranno essere installati i pendini inoltre le aziende dicono benissimo visto che io ti ho detto che devi mettere i pendini ogni metro e 0,5 devi aggiungere un'altra serie di pendini la prima serie di pendini in particolare sul lato lungo a un terzo della distanza cosa vuol dire? che come vi ho detto abbiamo questa qui che è un metro e 0,5 un terzo della distanza sarebbe 35 cm quindi vuol dire che dobbiamo mettere sul lato lungo un'altra serie di montanti a 35 cm benissimo e questo è quello che dicono le aziende quindi da qua a qua avremo 35 cm poi qui avremo 70 poi da questo pendino a questo un metro e 0,5 stessa cosa per questo e da qui a qui avremo circa una quarantina di centimetri questo è quello che dicono le aziende ora siccome come vi ho sempre detto che io non tengo mai presente quello che dicono le aziende per quanto riguarda il discorso della pendinatura e cerco sempre dove è possibile di ridurre la distanza sotto al metro in tutti i lati e soprattutto se posso scendere anche sotto gli 80 cm tanto di guadagnato ho deciso di fare la pendinatura in maniera diversa vi attivo i pendini così vi faccio vedere eccoli qua allora tenendo presente sempre il concetto dei 50 cm dalla muratura di qua altri 50 cm da quest'altra muratura ho messo come interasse massimo fra un pendino e l'altro 90 cm circa 91 per la precisione quindi se io mi portassi a 90 cm di qua sarebbe così 90-90-90 e un terzo della misura sarebbe la prima serie dovrebbe venire a 30 cm anziché 35 come abbiamo visto prima perché è un metro e 0,5 la distanza cosa succede però? succede che in sostanza avrei avuto la prima serie di pendini a 30 cm poi la seconda serie a 60 dai primi poi 90-90 e poi altri 50 cm di vuoto fra questa serie di pendini e la muratura finale ora per evitare tutto quanto questa diversità di misure cosa ho fatto? ho traslato tutta la struttura quindi ho fatto in modo in sostanza che la prima serie di pendini andasse a 40 cm l'interasse da questo a questo fosse uguale per tutti quindi ogni 90 cm e da questo al muro finale altri 40 cm quindi ho centrato esattamente tutta la pendinatura per tutta la larghezza della stanza e lunghezza in lunghezza invece che discorso ho fatto? visto che abbiamo detto che fattori fondamentali dobbiamo partire a 50 cm da questa muratura e 50 cm da quest'altra cosa ho fatto? ho preso la distanza che c'è fra questo e questo che ovviamente essendo la nostra stanza 4 metri e 64 tolto un metro viene 3 metri e 64 vedete ho voluto dividere questo spazio affinché ci fossero almeno 4 pendini ulteriori quindi in questo caso sarebbero 5 spazi quindi ho fatto 3 metri e 64 diviso 5 e mi è venuto un interasse di 73 cm ed ecco come io ho ragionato per quanto riguarda questo progetto per la pendinatura questo è il discorso che io faccio sempre ora sta a voi scegliere se adottare direttamente come dicono le aziende cioè il primo caso che vi è di esempio che vi ho fatto oppure andare su una soluzione tipo quella che vi ho fatto vedere che poi ho realizzato questo cancello tutto quanto in modo tale che avete una visuale più chiara se no tutte queste linee vi confondono benissimo questi i pendini quindi nostra prima serie di montanti sarà strettamente legata alla posa dei nostri pendini ovviamente la seconda serie di montanti che abbiamo scelto è con interasse 50 cm qui non l'ho messo l'altro perché in sostanza essendoci 60 cm se non ricordo male non valeva la pena sprecare un ulteriore montante da mettere in questo lato anche perché poi qui la lastra è ancorata alla guida perimetrale quindi sarebbe stato uno spreco di un montante inutile altra cosa guardate qui in sostanza avete visto che questo montante anziché metterlo a 50 cm ne ho aggiunto un altro perché questo perché il cassonetto qui della tapparella essendo sporgente di circa mi ricordo 10 cm o qualcosa del genere ho fatto in modo in sostanza che questo montante fosse un pochino più al di qua dello spessore del cassonetto in modo tale da poter avvitare la lastra in questo punto qui perché altrimenti qua da questo punto perché questa c'è la guida perimetrale fino quindi da questo punto qua del cassonetto all'altro dietro qua sarebbe stata completamente sguarnita la lastra quindi per evitare problemi ho messo un montante in più in questo punto qua e ho avvitato tutte quante le viti delle lastre qua in aggiunta a quella perimetrale ed ecco qua poi da qui potete tranquillamente rimettere i materiali isolanti all'interno qui di questo intercapedine se ne avete necessità bene con questo spero di aver chiuso il cerchio per quanto riguarda la realizzazione e l'organizzazione della struttura metallica per quanto riguarda i controsoffitti a doppia struttura sovrapposta soprattutto ho anche integrato quello che avevo detto nei primi video come vi ho detto anche all'inizio anche sulla base di quello che mi era stato fatto presente nei commenti di altri in precedenza realizzati quindi vi ho voluto tenere presente che ci sono anche questi altri tipi di modalità di pose del cartongesso sta a voi adesso utilizzare quella che preferite in base soprattutto ovviamente come abbiamo visto oggi alla conformazione della stanza che andate a controsoffittare e a tutta un'altra serie di fattori fondamentali che dovete tenere in considerazione bene detto questo anche il video di questa settimana è terminato noi ci vediamo la prossima volta vi raccordo soprattutto qui in descrizione ci sono i link per iscrivervi a questo canale youtube ai profili facebook e instagram ricordatevi di mettere un bel like se il video di questa settimana vi è piaciuto di spuntare qui sopra la campanellina per essere avvisati quando uscirà il prossimo video e noi ci vediamo la prossima volta buon fine settimana a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao